Nell'Eurozona resta notevole incertezza sulle prospettive dell'inflazione nel medio termine per la BCE, non è il momento per dichiarare vittoria. Resta prudente la presidente dell'Erotower Lagarde e parlando agli eurodeputati della Commissione Econ del Parlamento Europeo ribadisce che l'Istituto Centrale manterrà la decisione sui tassi di interesse ancorati ai dati economici. Nella prossima riunione del 14 dicembre valuterà quindi le proiezioni più aggiornate anche al 2026 per aggiornare la propria politica monetaria. Ci aspettiamo che l'indebolimento delle pressioni inflazionistiche continui, ha segnalato comunque Lagarde, anche se l'inflazione complessiva potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi, principalmente a causa di alcuni effetti base. Dobbiamo mantenere questi tassi per un periodo di tempo sufficiente affinché ci portino all'obiettivo del 2% e non ci siamo ancora. L'inflazione resta troppo alta, ha segnalato dunque ancora una volta.